Lungimiranza imprenditoriale Innovazione tecnologica Qualità, sicurezza Queste le caratteristiche che contraddistinguono la Tortora Macchine, leader in campagna nella vendita, noleggio e assistenza di macchine e attrezzature per movimento terra. L'azienda, con sede a Pagani, propone soluzioni all'insegna dell'eccellenza, con macchine di ultima generazione garantite e certificate per ogni esigenza specifica. Nel parco macchine in costante evoluzione è presente una vasta gamma di modelli di altissimo livello, versatilità, prestazioni elevate e praticità di funzionamento. L'officina dispone di attrezzature d'avanguardia che consentono una manutenzione ordinaria e straordinaria. L'alta professionalità degli interventi è garantita dall'esperienza dei tecnici addetti. Il personale, dinamico e altamente qualificato nei vari settori di competenza, supporta e consiglia anche nella gestione di tutte le pratiche utili al ritiro del mezzo. Il nostro obiettivo è anticipare e soddisfare quotidianamente le esigenze dei nostri clienti in termini di produttività e costi, attraverso di soluzioni altamente tecnologiche. I nostri clienti si fidano della nostra trasparenza e ci scelgono per migliorare il proprio lavoro. Il mio team è formato da professionisti del settore, scelti per le qualità tecniche e per le capacità di lavorare in squadra, perché questo lavoro, prima di tutto, per noi è una passione. Concessionaria del brand Caterpillar, l'azienda dispone presso l'ampio sortito store di ricambi della gamma a compatta, accessori, oli e lubrificanti che soddisfano gli elevati standard richiesti dai motori. Grazie al know-how tramandato di padre in figlio e l'esperienza sul campo, la Tortora Macchina ha negli anni raccolto non solo successi e consensi, ma stretto importanti sinergie. Partner affidabile che ha fatto della qualità e della sicurezza le chiavi fondanti della propria azione imprenditoriale è il Gruppo De Pascale, che occupa una posizione di preminenza nel settore edilizio, infrastrutturale e stradale. L'impresa, operativa Mercato San Severino, è specializzata in realizzazioni di rete fognarie e idriche, ristrutturazione e manutenzione di edifici, demolizioni scavi e movimento terra. I continui investimenti nell'acquisto di macchine all'avanguardia, la capacità di ascolto delle esigenze del cliente, l'affidabilità del personale, hanno permesso al gruppo di realizzare negli anni numerosi lavori e di diventare costruttori di qualità. La nostra mission è garantire qualità e assistenza. Gli eccellenti macchinari assicurano lavori efficienti e accurati. Lavoriamo insieme per fare la differenza. Con Tortora Macchine costruisci il tuo futuro, ora.